Il Comune di Silvio ha presentato il cartellone degli eventi estivi in programma nel mese di luglio. Tanti gli appuntamenti che animeranno il Comune Costiero, questo anche grazie al convolgimento e all'impegno di tante associazioni locali e non. Iniziative legate ai concerti, alla letteratura, agli spettacoli teatrali, al cinema, ma anche tante proposte per i più piccoli. Sì, diciamo che siamo giunti alla fine di questo lavoro, che è stato intenso, ci siamo insediati come molti voi sapete recentemente. Abbiamo ereditato già una linea per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi, che il mio predecessore per un obiettivo di destagionalizzazione ha iniziato molto presto. Abbiamo avuto eventi di cartello molto prima rispetto alle nostre sorelle, parlo delle sorelle della Costiera Teramana, proprio con degli eventi anche internazionali. Adesso procediamo all'interno della stagione, che per noi speriamo terminerà a settembre, proponendo il cartellone dedicato a luglio. Con una visione chiara, abbiamo voluto snellire il rapporto con i cittadini che attraverso associazioni o altri tipi di realtà volevano vivere le nostre piazze con i propri eventi. Quindi abbiamo mixato, a nostro avviso correttamente, speriamo poi di essere graditi anche dai nostri cittadini, un mix tra cultura, spettacoli, arte, sport, in modo tale da poter far vivere la nostra cittadina ai più piccoli, ai meno piccoli, alle famiglie e anche a quel turismo un po' spot, che desidera una movita un po' più attiva. Eventi quindi a 360 gradi su tutto il territorio comunale? Assolutamente sì, questa è stata un'altra stella polare che abbiamo voluto seguire perché abbiamo un territorio molto lungo e quindi abbiamo cercato con le due piazze più caratteristiche di Silvia, che sono piazze Enrico Fermi e piazze dei Pini, di farle vivere alcune volte anche comunemente con eventi che riuscissero a spingere una cittadina lunga come Silvia a vivere più compattamente la propria serata.